Come è la sua casa? Come è la sua casa? Per diventarsi vicendevolmente e per riprendere forze per gli apostolati e quindi quella casa non è esclusiva dei paolini, è esclusiva di tutti coloro che vogliono cercare un poco di silenzio, di calma e compiere gli esercizi spirituali come è previsto. La novità di questa notizia per chi in qualche modo conosce lo stile degli esercizi spirituali è che non sono più tenuti in Vaticano ma sono tenuti fuori dal Vaticano. Questa sì è la vera novità. Per quanto riguarda di andare nella nostra casa di Ariccia, noi siamo contenti che il Papa attraverso i suoi collaboratori abbia scelto il nostro posto e speriamo che dia anche qualche buona parola per il nostro centenario.